Una settimana molto impegnativa partita dal Giovedì Grasso fino ad oggi con tanti eventi in programma. Sì, è stata una settimana piena, ma anche piena di soddisfazioni, di grandi eventi. Siamo molto felici. Sappiamo qualche cosa in più. Abbiamo imparato tanto da questa edizione e la porteremo nel 2021. Lo so che è un po' prematuro, ma appunto un bilancio anche in anteprima di questa edizione. Ma il bilancio è assolutamente positivo nonostante il coronavirus e quindi adesso bisogna che vado perché... Va bene, lasciamo, lasciamo, lasciamo che il Boulon, il presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli, il sindaco di Fano Massimo Seri hanno dato via al rogo del Boulon in piazza. Grazie a tutti.